Stasera c'è un importante Consiglio dei Ministri, di cosa si parlerà? Lo chiediamo in diretta a Fabiana Dadone, Ministro della Funzione Pubblica che è collegata con noi. La ringrazio moltissimo. Buonasera Ministro, benvenuta con noi. Lei ha un di castello molto importante in questione, che è anche un indicatore di come sta cambiando il mondo del lavoro. Ma prima voglio chiederle cosa c'è sul tavolo questa sera. Naturalmente noi al nostro pubblico lo spieghiamo in maniera molto semplice. Stasera discuterete dello scossamento di bilancio, giusto? Esatto, sì, è necessario ricevere un'informativa, un passaggio burocratico da parte del Ministero delle Economie e Finanze per poi presentarci in aula e chiedere la possibilità al Parlamento di discostarci della cifra che sarà necessaria a coprire il prossimo provvedimento, che è il provvedimento crescita che sarà emanato nei prossimi giorni e che serve proprio a portarci verso la famosa fase 2. Quindi questa ulteriore fase di supporto all'azienda e alle imprese che in questo momento hanno vissuto una pressione e dei momenti di difficoltà molto forti. Allora Ministra, lei parla di fase 2, ma noi già in questa fase che precede la fase 2 abbiamo in qualche maniera scoperto, in maniera preponderante, questa nuova modalità che è lo smart working, cioè il lavoro a distanza. Qui lo stiamo mettendo in atto perché la squadra è veramente ridotta all'osso. Come sta andando nella pubblica amministrazione e come andrà dopo il 2 maggio? Immagino ancora si continuerà così. Sì, dopo il 4 si continuerà ancora così per la pubblica amministrazione. Io devo dire che sono molto fiera di come la pubblica amministrazione ha reagito. Quando sono entrata in carica a Palazzo Vidoni appena sei mesi fa, quando si parlava di pubblica amministrazione si parlava soltanto di furbetti del cartellino o della parte che poco funzionava della pubblica amministrazione. E già all'epoca io avevo detto, non guardiamo solo chi non funziona, ma guardiamo la maggior parte dei funzionari che sono bravi, lavorano nella pubblica amministrazione e sono capaci di fornire servizi. Noi su quelli dobbiamo investire. Oggi di fronte a questa esigenza che ci ha visto coinvolti, cioè la pandemia, il coronavirus, la necessità di mantenere il distanziamento sociale, ma la necessità anche di uno stato di una pubblica amministrazione che non poteva permettersi di non erogare servizi. Abbiamo chiesto alla pubblica amministrazione di cambiare la modalità di lavoro. Quindi non presentarsi più con presenza fisica all'intervento, ma garantire i servizi di distanza, perché comunque la vita continua ad andare avanti. Io presento sempre un esempio pratico che serve però a far capire. Per fortuna continuano le nascite e sono proseguite in questo periodo. I comuni devono continuare ad emettere, per esempio, i certificati di nascita. Per farlo abbiamo permesso questo tipo di continuità lavorativa proprio da remoto con lo smart working, che è uno smart working molto particolare perché in questa fase non è il canonico telelavoro a distanza oppure quello che prevede gli spazi aperti, la possibilità di gestirsi, le disponibilità di spazio di tempo per raggiungere il risultato. È più forzato ma è dato dall'esigenza proprio di tutelare i dipendenti pubblici e dall'altro lato di garantire i servizi. Quindi abbiamo messo insieme queste due necessità, ma devo dire che la pubblica amministrazione, dal mio punto di vista, ha reagito molto bene. La vera sfida sarà riuscire a portare questa esperienza, questo bagaglio di esperienze acquisito in queste settimane anche nella pubblica amministrazione del domani, quindi anche quando saremo rientrati in una fase di lavoro stabile. Ecco, Ministra, secondo lei quanto durerà questa fase in cui lo smart working sarà, diciamo così, preponderante nell'organizzazione del lavoro? È difficile riuscire a dare una tempistica dicendo un mese, venti giorni o due mesi. In questo momento posso dire che manterremo il più possibile il lavoro a distanza proprio per tutelare e garantire i servizi. Sicuramente nelle prossime settimane ci sarà una piccola riapertura, quella che tutti stanno tanto attendendo, che è quella del 4. Però sarà sempre una riapertura per alcuni settori produttivi, in particolare perché ci sono esigenze economiche. Io penso agli imprenditori e commercianti che in queste settimane hanno sollevato un'esigenza, una necessità di riaprire per evitare di essere ulteriormente compressi e schiacciati dalla situazione economica. Quindi per loro ci saranno dei settori che riapriranno. La pubblica amministrazione continuerà invece a garantire i servizi a distanza. Possiamo tentare di concepire una fase intermedia di leggera riapertura e presenza, ma sempre conturnazione all'interno degli uffici, con delle distanze, garantendo, ove necessario che il cittadino si recchi, presso il Comune o presso la pubblica amministrazione, degli appuntamenti fissati telefonicamente e sempre con le distanze garantite, perché sappiamo che ora come ora il distanziamento sociale e le misure di prevenzione di questo tipo sono l'unica arma che abbiamo per combattere il Covid e l'espansione della pandemia. Ecco, Ministro, allora la fase 1 che finirà, insomma, il 3 maggio, si può dire che gli italiani sono stati molto diligenti, la maggior parte, la stragrande maggioranza della popolazione ha rispettato in maniera seria e precisa le misure di contenimento, le misure restrittive. Ora c'è questa fase 2, alle porte forse nelle prossime ore, nei prossimi giorni, il Premier Conte ci spiegherà come dovremmo affrontare questa fase, ma secondo lei siamo pronti a farlo, visto che dovremmo comunque fare i conti con le mascherine, come ha detto ieri il Premier in Parlamento, fino a quando non ci sarà una terapia o un vaccino, dovremo fare i conti con il distanziamento, quindi l'attività, la mobilità sarà tutto quanto rimodulato sulla base di questa che è la nuova vita che stiamo per affrontare. Siamo pronti? Siamo parzialmente pronti, dobbiamo riaprire con tutte le cautele del caso, io mi rendo conto dei grandi sacrifici che abbiamo chiesto ai nostri concittadini in queste poche settimane, che ormai invece sembrano essere diventate quasi un'era intera, quasi un anno, ma in realtà si tratta di settimane. Capisco i sacrifici delle persone a cui abbiamo chiesto di mantenere misure restrittive al pari anche in altre aree d'Italia, io sento spesso dire, ma noi non siamo nelle aree del nord più colpite perché dobbiamo sottostare lo stesso livello di restrizioni, oppure sento giustamente le lamentele di chi ha difficoltà economiche legate al fatto che è andato in cassa integrazione, ma così come anche il fatto che i nonni non possano più abbracciare i nipoti in queste settimane, me ne rendo assolutamente quanto ce ne rendiamo conto, io però vorrei ricordare a tutti anche di non dimenticare i quasi 20.000 morti, 24.000 morti, anzi con cittadini italiani, di non dimenticare quell'immagine figurata dei camion militari che portavano i feretri fuori da Bergamo per la cremazione in altre regioni, dei medici, degli infermieri che si stanno sacrificando in queste settimane negli ospedali, quindi noi vogliamo andare incontro all'esigenza di riaprire e di rigarantire degli spazi sociali e di ripartire ad alcuni settori produttivi, però sempre tenendo a mente che se non facciamo molta attenzione con la riapertura rischiamo di trovarci in una seconda fase di picco cui rischiamo di non riuscire ad essere in grado di far fronte. Il Governo è sempre molto cauto nelle scelte, siamo affiancati dal Comitato Tecnico Scientifico, dalla Protezione Civile e ogni passo che facciamo lo facciamo con le dovute cautele proprio perché abbiamo a mente la responsabilità di tutti questi fattori che dobbiamo tenere in mente tutti assieme. Ministro, la ringrazio per il suo intervento. Intervento, magari se a voglia ci vediamo nella fase della ripartenza così aggiorniamo anche un po' il quadro, volevo chiedere dei concorsi e delle altre cose ma magari lo facciamo più avanti anche perché così abbiamo compreso come dobbiamo ripartire. Grazie alla Ministra Dadone, buon lavoro a lei, speriamo davvero di ricominciare presto.